Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca si è conclusa ad Arezzo la fuga del 61enne ergassolano in semilibertà che ha tentato di uccidere la compagna. Vediamo il servizio. L'uomo stava scortando l'ergassolo per un'altra causa. In questo momento era in semilibertà e aveva il permesso per uscire durante le ore di urne. Di sera però non ha fatto rientro in carcere? No, non ha fatto rientro in carcere perché nella sera di ieri ha commesso appunto questo tentato omicidio e poi è fuggito. Ieri sera si sarebbe dovuto presentare in carcere ma in realtà è andato a casa della compagna la sfregiata con l'acido e poi la coltellata infine si è dato alla fuga. L'aggressione si è consumata in provincia di Parma a Sorbolo Mezzane dove ieri sera un 61enne ergassolano originario di Napoli si è scagliato contro la compagna e madre dei suoi due figli, uno dei quali presenti in casa in quel momento. Prima le ha svuotato una bottiglia di acido sulla testa, poi la colpita con un fendente sul fianco. Infine si è dato alla fuga lungo l'autostrada del Sole ad intercettarlo e fermarlo dopo 200 chilometri carabinieri e polizia stradale. In sinergia si è fatto questo inseguimento da Parma, sia i colleghi di Parma, sia i carabinieri di Firenze e Arezzo che si trovavano nel tragitto e la polizia stradale di Arezzo. Si è riuscito a intercettare la macchina in fuga verso sud all'altezza del casello dello svincolo di Incisa-Reggello e poi da Incisa-Reggello è nato un inseguimento che si è concluso all'altezza dell'area di servizio di Badia Alpino, dove la polizia e i carabinieri insieme hanno bloccato la macchina e hanno tratto in arresto la persona. Il 61enne adesso dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ed evasione. Era stato condannato all'ergassolo per gravissimi reati contro la persona commessi alcuni decenni fa. Adesso si trova nel carcere a retino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna, 54enne, invece è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora cronaca, ad Arezzo un arresto anche per stalking. In manette è finita una 50enne che avrebbe pedinato, mandato messaggi sgraditi a sfondo sessuale e lasciato anche biancheria intima sull'auto della vittima. Le manette sono infatti scattate proprio di fronte al negozio in cui la donna lavora come commessa. Le volanti sono intervenute dopo una segnalazione. L'uomo si trovava di fronte all'esercizio commerciale nonostante la donna lo avesse denunciato qualche giorno prima in seguito a ripetuti episodi di molesti e persecuzioni. Adesso si trova agli arresti domiciliari. E ora la cronaca giudiziaria. Ha patteggiato la pena di tre anni e adesso sarà chiamata a svolgere i lavori socialmente utili la 36enne che si trovava alla guida di una pick-up che si schiantò contro un muro a castroncello. Un terribile incidente nel quale perse la vita il giovane che occupava il posto del passeggero, un 34enne di origini rumene e residente a Camucia. Lui, 37enne con nazionale, rimase gravemente ferito e era finito anche a processo per omicidio stradale. L'incidente risale al maggio 2023. I due quella mattina stavano andando al lavoro. E adesso torniamo in città e ci spostiamo ai giardini della Porcinai. Prosegue il presidio dei vigilanti. A pochi giorni dall'entrata in vigore dei servizi di controllo da parte di un'agenzia privata dei giardini del Porcinai e ad Arezzo un primo bilancio. La presenza dei due uomini in divisa che ogni giorno percorrono a piedi tutta l'area sembra dare i primi risultati. Siamo all'inizio, sono pochi giorni che questo servizio è partito. Avete già riscontrato qualche caso critico? Oppure la presenza della divisa, perché di fatto anche la vostra è una divisa, insomma già scoraggia tanti comportamenti? Sicuramente abbiamo notato che la divisa scoraggia dei comportamenti. Rispetto alle fasi iniziali, quindi proprio alle primi giorni, sono addirittura alle prime ore di servizio, abbiamo riscontrato che effettivamente siamo un deterrente, che poi in realtà è quello che noi volevamo essere fondamentalmente. Abbiamo notato che particolari criticità, dove potesse essere necessario chiamare le forze dell'ordine o comunque intervenire con una importanza diversa, non ci sono state. Quindi probabilmente lo scopo della vigilanza è stato raggiunto, immagino. I vigilantes terranno sotto controllo i giardini fino alla partenza dei lavori di riqualificazione previsti per giugno. Intanto già una corposa potatura degli alberi consente una visuale migliore. I pattugliamenti saranno dalla domenica al giovedì, dalle 14 alle 2 del mattino, mentre il venerdì e il sabato la vigilanza arriverà fino alle 4 del mattino. L'area in cui ci concentriamo è sicuramente questa. Effettuiamo un servizio di pattugliamento costante, andando avanti e indietro per tutti questi giardini, dove andiamo a verificare se ci possono essere degli elementi di criticità o delle situazioni in cui possa essere necessario un primo blando intervento da parte nostra come prima azione correttiva. Oppure andremo a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine con le quali anche in più occasioni abbiamo collaborato e comunque abbiamo sempre avuto il massimo appoggio. A far discutere negli ultimi mesi è stato anche il cantiere abbandonato di via Fabio Filzi. Proprio in questi giorni è arrivata una seconda proroga da parte dell'amministrazione comunale affinché la ditta che nei proprietari deve portare a termine i lavori per la futura caserma della polizia municipale ripristini la sicurezza della struttura. Oggi è poi partito anche un secondo esposto delle famiglie che sono confinanti perché fortemente preoccupate per le conseguenze che possono avere le mura delle loro proprietà. Ad oggi in sostanza non è stato fatto nulla, scrivono nel documento al quale allegano le foto che comprovano la vicinanza con quelle fondamenta che sono diventate ormai delle immense vascone di acqua piovana e di acqua di falda che risale. Ci sono delle novità invece per quanto riguarda la circolazione in zona Baldaccio. Resterà valida infatti fino a quando non saranno cessate le sopravvenute esigenze di cantiere. Chi arriva da via Baldaccio da Anghiari e percorre l'attuale rotatoria apposta davanti ai due tunnel non potrà più fare inversione a U per tornare verso il centro ma dovrà immettersi necessariamente in via dei Carabinieri. Così come chi proviene da quest'ultima avrà l'obbligo di andare verso il centro senza utilizzare la rotonda per invertire il senso di marcia. E sta anche per partire la demolizione della palestra da basket attualmente in uso di veicolo della palestra. L'intervento coinvolgerà anche i campi in tempo utilizzati per la palla mano e l'hockey. I lavori su questo complesso sportivo dureranno sino alla prima settimana di luglio e comporteranno la totale interdizione ai pedoni di transitare lungo la viabilità di accento all'edificio e nell'area di cantiere. Dunque raggiungere a piedi San Lorentino ad esempio dal circolo tennis o dal centro di aggregazione sociale sarà vietato per l'intera durata delle opere. E questa mattina si è concluso con un convegno al Teatro Petrarca il progetto Noi Ragazzi Estranea e la Mafia. Con speranza verso un futuro migliore mi auguro che noi, le nuove generazioni, abbiamo la forza di prendere a carico questo messaggio della sua forza e di fare tesoro delle testimonianze a cui la scuola ci ha permesso di partecipare. Mi auguro che vinca l'amore, la pace, le persone buone e che mai nessuna donna debba più piangere sulla tomba del marito e che mai più nessun bambino debba conoscere il padre solo tramite foto e racconti. Saranno loro le sentinelle della legalità nel futuro. Le studentesse e gli studenti del progetto Noi Ragazzi Estranea e la Mafia promosso da Estra in collaborazione con il liceo Vittoria Colonna di Arezzo e l'associazione L'Arte di Apoxiomeno. Tutte le vittime di mafia, con il loro coraggio, non hanno taciuto, hanno denunciato, hanno urlato e hanno rotto quel silenzio e quell'indifferenza anche ancora oggi sono la forza delle nuove mafie. La sfida educativa è la sfida più importante per contrastare la cultura mafiosa che come si sa in Toscana per fortuna non ha permeato e non ha contaminato il testo sociale ma elegge la Toscana come altre regioni del nord quale luogo dove si commettono reati accessori a quelli mafiosi, cioè riciclaggio o reati finanziari. Quindi la guardia va tenuta alta. Il problema della mafia viene spesso rilegato soltanto al sud. In realtà è una problematica che sussiste in Toscana così come tutto il nord Italia. Un percorso emozionante che ha coinvolto gli studenti aretini in quattro masterclass dedicate alla lotta alla criminalità organizzata. Dunque abbiamo avuto la Maria Rosaria Costa che l'ha vedo a Schifani, la Monica Dobrovosca che ha raccontato come e con quali difficoltà Roberto Mancini ha dovuto spiegare che esisteva un problema in una particolare zona della Campania, la famosa terra dei fuochi. E poi abbiamo avuto il racconto del prefetto Mori e del colonnello De Donno che hanno raccontato le indagini a Palermo che hanno portato poi alla sconfitta almeno della mafia stragista della Sicilia. E non per ultimo abbiamo raccontato quello che è successo in via dei Giorgofili attraverso la testimonianza dei vigili del fuoco che intervennero nell'immediatezza e dei rappresentanti dell'Associazione Vittime. Dunque un bellissimo percorso anche emozionale. Abbiamo visto i ragazzi piangere. Un percorso che si è concluso con un convegno al Teatro Petrarca alla presenza anche della Presidente della Commissione Antimafia. Mi hanno lasciato la speranza che giornate in cui si debba parlare ancora di infiltrazioni della criminalità organizzata nella cosa pubblica non ci saranno più. Mi ha colpito molto come in realtà anche fatti così lontani nel tempo come le stragi siano presenti tra questi ragazzi e spero che loro saranno la fine della criminalità organizzata. Per me è stato un incontro e una lezione di vita che porterò nel cuore e spero che questo viaggio nelle scuole tra noi ragazzi continui perché di vita e delle vittime della mafia si deve parlare sempre, non solo durante gli anniversari. Le auguro che la vita possa ripagarla per tutto quello che ha dovuto affrontare. Un grande abbraccio carissima Rosaria e grazie per l'insegnamento che ha dato e che continuerà a dare. Amanda Moretti Parliamo adesso di lupi. Il CAI di Arezzo ha organizzato una due giorni nell'altro d'onore della provincia di Arezzo dedicata ai grandi carnivori. Come si può convivere? Conoscendo. Conoscendo e cercando di fare uno sforzo di comprensione e sapendo che evidentemente la natura ha bisogno del lupo, ha bisogno dell'uomo, ha bisogno di altri animali per un suo equilibrio, se vogliamo cercare l'equilibrio. E con questo obiettivo che è nata la due giorni dedicata al lupo un'iniziativa del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano di Arezzo. Una mostra dedicata ai grandi carnivori nell'altro d'onore della provincia collegata idealmente alla mostra sulla fauna selvatica. So benissimo che è un argomento sensibilissimo in questo periodo qui, sono tanti risvolti, ma l'abbiamo voluto proprio anche per questo e ci siamo in questo senso appoggiati al nostro Comitato Scientifico Nazionale. 19 pannelli espositivi con i quali il CAI può raccontare i grandi carnivori chiamati anche presenze silenziose. Per racconta evidentemente l'ambiente, il lupo e i grandi predatori in generale, però è vero che l'affronta dal punto di vista scientifico, naturalistico, nel fatto come vive il lupo, come è stato portato, come è stato reintrodotto, come è stato con me e anche, diciamo, sostanzialmente cercare di portare l'argomento verso favorire la convivenza, perché altrimenti se no non ne riusciamo. Noi si dice da tante parti che siamo ospiti della natura, sono ospiti di noi, sono ospiti loro, bisogna salvaguardarli tutti. Nel corso della due giorni è stato anche presentato il documentario Il Lupo 1, nato dal monitoraggio di un esemplare, il lupo sirio. Ha vinto il primo premio al DocuFilm Festival di Trento ed è stato fatto in collaborazione con l'Università di Sassari e la Regione Veneto, quindi a tutti i crismi dell'ufficialità e della scientificità soprattutto. e evidentemente è un film che parla del lupo, parla della sua vita, parla del modo in cui si affronta il suo ambiente e poi anche il discorso di come può eventualmente vedere la convivenza sempre con l'umano. Buon saio alla mano, scarpe comode, soprattutto compagnia di un amico a quattro zampe. È ora Baula, passeggiata organizzata da Officina Rilancio Arezzo per domenica 12 maggio. Partirà dal Parco Pertini con appuntamento alle 9.30. Da lì i partecipanti e gli amici a quattro zampe si muoveranno per le strade del centro storico per il Latour delle Sette Chiese, accompagnati da una guida esperta che racconterà storie e curiosità dei luoghi che verranno percorsi. L'evento con il patrocinio della Comune di Arezzo prevede una quota di iscrizione di 5 euro e parte dei proventi saranno devoluti al canile comunale. Venerdì 10 maggio sarà invece un pomeriggio di letture e dibattiti sugli stereotipi di genere. L'appuntamento al centro di aggregazione sociale Tortaia, dove si terrà l'iniziativa La prima donna sulla luna, a partecipazione libera e gratuita, che tornerà a rinnovare la sinergia tra pronto donna centro antiviolenza e l'associazione Noi nelle scarpe diverse per riflettere su tematiche di attualità collegate a discriminazioni e pari opportunità. Sempre venerdì 10 maggio, un omaggio al genio di Vasari attraverso il cinema. Una doppia proiezione del film Le memorie di Giorgio Vasari alla presenza del regista Luca Verdone che, promossa dalle ACLI assieme a Comune e Fondazione Guido d'Arezzo, rientra tra le iniziative promosse in città per i 450 anni dalla morte di uno dei più grandi maestri dell'arte italiana. Alle 10 in anteprima l'Arena Eden ha rivolto agli studenti e poi alle 21 al Teatro Petrarca la visione aperta all'intera cittadinanza. E ancora venerdì 10 maggio, ma alle 20 al centro polivalente di Subbiano la Città della Musica organizza la cena spettacolo musica live con le band a Coralli, Amnesia, Recover Band e Safinilla Live Band. Il ricavato della serata sarà destinato al Calcite di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche. E adesso voltiamo pagina per parlare dell'autogiro d'Italia, la manifestazione non competitiva per auto d'epoca che ha toccato anche la provincia di Arezzo. È partito d'Arezzo l'autogiro d'Italia 2024. Nella prima tappa ha infatti sostato a Castiglion Fibocchi dove gli equipaggi sono stati accolti dalle maschere del Carnevale dei figli di Bocco per poi dirigersi verso Montevarchi. La carovana, composta da 50, auto d'epoca scortata dai carabinieri in moto e da una macchina storica dell'arma, è infatti arrivata in Piazza Varchi. Ogni anno i partecipanti percorrono 1.600 chilometri nel paese al fine di conoscere le bellezze e le eccellenze enogastronomiche dei territori. Le soste sono qui a Castiglion Fibocchi, ci sarà poi una sosta a Montevarchi, a Castellini Inchianti, Volterra, Terricciola, prima di arrivare a Livorno. E in tutte ci sarà un assaggio in tutti i sensi del territorio. E questo è quello che vogliamo offrire. Abbiamo partecipanti che vengono dagli Stati Uniti, che vengono da quasi tutta l'Europa, da Scozia, Inghilterra, Olanda. Diciamo che è molto variegato il partecipante, oltre a molti italiani. E cercare di fargli vedere un'Italia non dell'autostrada è il nostro compito. L'edizione 2024, dopo questa prima tappa, Rezzo-Livorno, domani farà Livorno, passando da Firenze, Piazzale Michelangelo, la Futa, arriveremo al Museo Ferrari a Maranello, visiteremo l'Accademia Militare la mattina dopo a Modena, da dove partiremo, per arrivare attraverso il Delta del Po a Ravenna, dove visiteremo i Mosaici, scenderemo attraverso l'Appennino Emiliano-Romagnolo fino a Pesaro, passando Pesaro, capitale della cultura 2024. La quinta tappa da Pesaro, che ci porterà a Senigallia, in realtà è lunghissima, passerà al centro di tutte le Marche. Faremo sosta ad Osimo, dove c'è la Lega del Filodoro, che è il charity partner dell'Autogiro d'Italia. Una serata di ogni autogiro è destinata alla raccolta fondi per la Lega del Filodoro. Torneremo attraverso Ancona a Senigallia e l'ultima tappa sarà a Senigallia, attraverso le grotte di Frassassi, per poi tornare ad Arezzo. E noi che siamo appassionati del motore, chiaramente non potevamo mancare questo appuntamento di collaborazione con chi organizza questa bella manifestazione. Camai significa club amatori, macchine agricole dell'epoca. E siccome il motore è nato in Toscana, Barzante e Matteucci nel 1853 portarono la loro invenzione all'Accademia dei Giorgofi, di cui noi siamo collaboratori, e loro nel plico scrivono che il motore, quel motore a combustione interna, doveva servire ad alleviare la fatica dell'uomo. Dopo è venuta anche la mobilità, ma inizialmente era per alleviare la fatica dell'uomo, per rendere l'uomo meno simile alla bestia, perché lo libra dalla fatica più bestiale, che è quella dei campi. Adesso la pagina dello sport. Questa sera alle 20.30 a Gara Secca, dei play-off per l'Arezzo. Lo scontro è ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Sei precedenti con i bianconeri, finiti in un pari e cinque sconfitte. Quella di stasera per l'Arezzo sarà la prima partita alla presenza del VAR. La Lega Pro ha infatti introdotto il supporto tecnologico per la terna arbitrale in tutte le gare dei play-off. Ovviamente nelle prossime edizioni tutti gli aggiornamenti. Ed è tutto pronto anche per la ventotesima edizione della Galà degli Sport da Combattimento, le stelle del Ring. L'evento, organizzato dal team Iacchini, è in programma alle 20 di sabato 8 giugno, quando lo stadio comunale di Capolona tornerà ad ospitare una serata scandita da dieci combattimenti tra alcuni dei migliori atleti professionisti di kickboxing dall'Italia e dall'estero. Le stelle del Ring rappresenta uno degli appuntamenti più longevi, attesi e partecipati del panorama nazionale con l'alto livello della manifestazione che sarà confermato dall'assegnazione di un titolo intercontinentale e due titoli italiani. Per stasera è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.